Stringiamoci al po' oppe, s'appuntiamo alla morte, s'appuiamoci a una morte di Tagliacozzo. La visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è un onore per l'Abruzzo, e quanto ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, dopo la partecipazione al Teatro dei Marsi di Avezzano, alla commemorazione della battaglia di Tagliacozzo tra Corradino di Svevia e Carlo D'Angio. Il Presidente Mattarella ha invitato le istituzioni a tutelare le zone interne dell'Italia per quel che rappresentano non soltanto nella storia, ma nel presente e nel futuro del nostro Paese. Difendere questa articolazione e quindi avere presente costantemente l'importanza della tutela delle zone interne. Nello spirito dell'esortazione del Presidente della Repubblica, ha garantito che il Consiglio regionale continuerà a tutelare le aree interne dell'Abruzzo. Non abbandonare questi luoghi, ha detto, vuol dire difendere l'unitarietà della nostra Regione. Grazie. 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 Grazie.